Assessore, si lamenta il fatto che le rette sono troppo alte e quindi gli asili nido che sono vuoti? Guardate, questa è una discussione che abbiamo fatto tante volte. Io volevo semplicemente dire una cosa. Chiunque oggi sta protestando, volevo sapere dove erano quando gli asili nido erano chiusi. Oggi protestano per qualche cosa. Ora, sei, otto mesi fa quando sono stati chiusi gli asili nido, tutte queste persone che avevano tutto questo interesse per i bambini e per le famiglie, dove erano? Era un problema che non interessava la città. Questo dico come considerazione per capire la buona fede di chi oggi sta cavalcando e strumentalizzando un percorso che noi avevamo detto che era sicuramente complesso, difficile, perché la riapertura degli asili nido è stata complesso, difficile. Noi stiamo costruendo un progetto che ha i suoi tempi per essere realizzato. Abbiamo spiegato che in questo momento abbiamo oltre 310 bambini, abbiamo 310 bambini. Stiamo prevedendo l'ampliamento delle fasce di protezione. Rispetto agli stipendi noi abbiamo già convocato, c'è un problema legato a un aspetto amministrativo che non è competenza nostra perché noi dobbiamo rispettare la legge, sapete che il DURCO è una competenza di legge. Stiamo parlando con l'Inps, abbiamo convocato i sindacati per giovedì pomeriggio per analizzare tutte le risposte possibili da un punto di vista legale. In primo luogo per garantire i lavoratori e quindi per garantire lo sblocco degli stipendi che si...